Le prospettive per l'irrigazione dei terreni agricoli cremonesi non sono per niente buone. Non si prevedono precipitazioni significative, quindi il Po, da cui dipende l'approvvigionamento idrico di 20.000 ettari ad est di Cremona, perderà quel metro guadagnato grazie alle piogge di settimana scorsa. La zona più provata è però quella servita dai laghi di Como e di Zeo, irrigata per gravità. I minimi storici sono stati raggiunti e la derivazione già da oggi non sarà garantita. A livello di acqua abbiamo avuto il Po che si è mantenuto stabile fino a settimana scorsa e le piogge addirittura hanno consentito un incremento di quasi un metro, un metro che però si sta esaurendo proprio in questi giorni. Questo qua è a livello di fiume Po, qua il picco delle piogge che abbiamo avuto sabato e ora gradualmente stiamo ritornando a una situazione di settimana scorsa, che comunque non ci crea preoccupazioni, anche perché comunque fa bisogno di riguore, è calato. L'altro territorio delle province di Cremona è che è regato invece da gravità tramite appunto i fiumi Adda e Oio e l'insofferenza, è sempre stata in sofferenza e adesso le portate distribuite già da oggi si attesteranno dell'ordine del 20% di quello che è la portata media nominale di questo periodo. Questa è la situazione di quello che sono le acque, le altre acque, ovvero quelle derivate da Adda e Oio che rispettivamente prendono dal lago di Como e il lago di Sio. Vedete che il lago di Como ha una percentuale dell'1,2% di riempimento, in sostanza è pressoché esaurito, e il lago di Sio non è molto lontano, del 5,7%. Per dare un'idea di quello che è a livello di Como, ma speculare anche quello dell'Oio, la linea blu è l'andamento di quest'anno, la gialla i minimi storici, la rossa i massimi. Vedete che ormai è più di un mese che stiamo, diciamo, stabilendo nuovi minimi storici di quello che è il lago. Ma i minimi già sono a meno 40 ed è una quota che noi non possiamo sforare per dei limiti di concessione demaniali.